Nuovo centro per le famiglie, spazio neutro ed incontri protetti, questa mattina l'inaugurazione del nuovo sportello in piazza Garibaldi a Montevarchi. Il primo centro della famiglia a livello del Valdarno, quindi un luogo idoneo e creato appositamente per gli incontri tra genitori e figli dove si riavvisa una problematica relazionale importante, quindi un luogo dove i bambini possono socializzare, giocare, parlare con i propri genitori, ma sempre seguiti da dei professionisti che attraversano uno specchio unidirezionale e controlleranno l'andamento dell'incontro. Questo è un progetto importante perché è nato grazie alla collaborazione con la conferenza di sindaci, con la provincia e con l'ASL, Montevarchi ha messo a disposizione gli ambienti, ambienti idoni creati su misura per questo progetto e da ora in poi quindi anche le famiglie che riscontrano delle problematiche importanti potranno usufruire di questo luogo idoneo e neutro proprio per poter socializzare al meglio con i propri figli. Adesso entriamo nello specifico dei servizi che verranno erogati. Questo è uno spazio neutro che è a disposizione delle famiglie del Valdarno e dei servizi, uno spazio neutro per ritrovare un rapporto costruttivo tra genitore e figlio o figlia. Ci sono situazioni talvolta molto complesse, conflittuali tra genitori in presenza di bambini e bambine minori. Ecco, questo è uno spazio dove si cerca di ricostruire la responsabilità genitoriale dei genitori per educare al meglio i propri figli. Il genitore che non vive insieme al bambino o alla bambina ha diritto di visita e quindi ha diritto a stare con il proprio bambino e la propria bambina. Talvolta però non è possibile lasciarlo da solo perché va osservato come si comporta lui, come si comporta il bambino e la bambina. Ecco, questo è uno spazio che ci permette tutto questo. C'è un impianto di registrazione a circuito chiuso, c'è la possibilità di uno specchio dove da una parte vediamo cosa viene fatto dall'altra e quindi la possibilità di monitorare al meglio e ricostruire al meglio questo rapporto.